Ora l'economia continua a vedere un giro di affari in crescita al 25% delle imprese piemontesi nonostante la frenata dell'economia e i venti di guerra internazionali. E' quanto emerso durante l'Assemblea delle Camere di Commercio italiane che si sono date appuntamento a Torino. Per noi c'era Francesca Nacini. Il Covid, la crisi e poi le guerre. Eppure il commercio made in Italy guarda con ottimismo al futuro. È il dato che emerge dalla conferenza di Union Camera a Torino. Affari stabili addirittura per un'impresa su quattro in crescita, secondo un sondaggio realizzato con Ipsos. Se fossimo un paese meno gravato dalle vicende burocratiche, quindi da questo magma nel quale spesso ci combattiamo io credo che potremmo fare decisamente ancora molto meglio. In Piemonte ci sono poi anche le nuove difficoltà nei collegamenti con la Francia ma nel contempo si amplieranno gli investimenti in innovazione con l'arrivo sotto la mole della Fondazione sull'intelligenza artificiale, confermata dal Ministro Urso. L'impegno a non spezzare legami internazionali poi sta premiando. Continuare ad essere globali è fondamentale. Credo che c'è un dato recente che dice che le esportazioni piemontesi hanno superato quelle della Lombardia in questa specie di campanilismo regionale. Credo che sia un dato che dovrebbe rendere fieri gli imprenditori piemontesi. Il trucco è fare squadra. Cercare di utilizzare le reti internazionali delle Camere di Commercio come altre reti per ristabilire un clima di fiducia che possa agevolare e continuare a far lavorare le nostre aziende. Una strategia che funziona a tutti i livelli in ambito internazionale, ha sottolineato il Presidente della CEI Zuppi. Nessuno ce la può fare da solo. Il vostro sistema mi sembra che è proprio questo, quello di mettere assieme anche realtà diverse e di convergere su dei risultati e su delle soluzioni. Il Cardinale ha poi parlato della preoccupazione per la situazione in Medio Oriente, dove però non andrà. No, io non è previsto assolutamente che vada in Terra la Santa.